Sono quattro gli appuntamenti in programma nella prima giornata del Festival Castel dei Mondi di Andria, un miscuglio tra scena nazionale ed internazionale che sarà poi il vero punto di forza di questa 22esima edizione della Kermess. Si parte con Tail on Bike, spettacolo completamente dedicato ai ragazzi, un progetto curato dal Centro Linguistico Fan English di Andria per bambini dai 5 agli 8 anni, presentato alle 18.30 all'Oratorio di San Francesco. Storie in bicicletta liberamente ispirate ai racconti dell'illustratore e scrittore britannico Quentin Blake, 30 piccoli aneddoti della stessa durata che affrontano temi diversi dall'attualità alla scienza alla filosofia, 30 monologhi video ospitati da una struttura ovale per uno spettacolo che il quotidiano francese Le Figaro ha definito mozzafiato. Alle 19 appuntamento nel Centro Storico con Incroci e Storie, una game experience pensata appositamente per il Festival, un gioco d'indagine dove l'utente veste i panni di un investigatore che deve risolvere un mistero. Doppio l'appuntamento serale, alle 21.30 a Palazzo Ducale, il gruppo Aldes presenta questo lavoro sull'arancia, ispirato al film cult di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica. Si tratta della prima regionale di uno spettacolo di teatro e danza, in cui sono gli stessi spettatori a dover intervenire interrompendo e modificando lo svolgersi della scena. Ma la prima giornata del Festival sarà anche il momento di un graditissimo ritorno, quello della compagnia francese di Cirque Vost che, dopo il successo di Bo, il circo di trapezisti portato in scena lo scorso anno, si ripresenta, questa volta in largo a piani, inizio alle ore 21.30, con Epicycle. Otto acrobati si muoveranno all'interno di una struttura composta da due grandi archi metallici, azionando negli ingranaggi, esprimendosi attraverso il linguaggio delle acrobazie. Questo è uno spettacolo che portiamo in giro dopo Boo dell'anno scorso, e praticamente sono 11 anni che è in preparazione, e in pratica si tratta di circo aereo, e gli acrobati si esibiscono in uno spettacolo che trae la sua ispirazione da una fiaba. Uno spettacolo portato in scena per la prima volta in Italia, proprio in occasione del festival, la cui realizzazione ha richiesto diverse ore di lavoro e di duro allenamento. Per la preparazione artistica dello spettacolo sono accorsi circa due anni. Per il setup della struttura qui ad Andrea abbiamo impiegato circa tre giorni. Ovviamente, siccome lo spettacolo è appunto vecchio e c'era bisogno di rinnovarlo, di risistemarlo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista artistico, occorre un po' di tempo e un po' di attenzione. Ma si sa, è come la bicicletta. Una volta che si impara a pedalare, poi non lo si scorda più. Grazie. Grazie.